Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Un grande esemplare di Squalo Bianco semina il panico in una tranquilla località di mare degli Stati Uniti. Il capo della polizia locale dovrà fronteggiare la minaccia, prima che sia troppo tardi. Questa è la trama in sintesi di Lo Squalo Jaws, in inglese, film cult del 1975 diretto dal maestro Steven Spielberg. Lo Squalo è una vera e propria pietra miliare dei film con animali o creature assassine, non solo per la presenza dello squalo, ma anche per le atmosfere, le sequenze e i personaggi coinvolti. In questo nuovo video della rubrica Cinema Lore andremo ad esaminare gli aspetti salienti di Lo Squalo, uno dei miei film preferiti in assoluto. Come di consueto, prima di iniziare, vi invito a seguirmi sui social. Basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Come da abitudine, partiamo dalla trama, anche se sicuramente tanti di voi la conoscono già. La cittadina balneare di Amity, una piccola isoletta del New England, vive secondo i più classici ritmi del turismo. D'inverno non c'è nessuno o quasi, mentre d'estate la zona si anima tra eventi, spiagge affollate e feste varie. La calma locale viene turbata dall'arrivo di un grande esemplare di Squalo Bianco, che comincia a uccidere e divorare alcuni bagnanti. La prima vittima è una sfortunata ragazza, seguita poi da un ragazzino intento a nuotare su un materassino gonfiabile. Il capo della polizia di Amity, ossia Martin Brody, tenta di contenere la situazione, ma deve scontrarsi con la linea politica del sindaco. Il sindaco ovviamente non vuol far partire un'ondata di panico, che terrebbe i turisti lontani dalle spiagge di Amity, e quindi inizialmente si oppone all'idea di vietare la balneazione. Dopo la morte del ragazzino, però, anche il sindaco si convince, e decide di indire una battuta di pesca allo squalo con l'obiettivo di eliminare la minaccia. Tra i vari pescatori troviamo anche un certo Quint, un esperto di squali segnato da una vita piuttosto dura. La caotica battuta di pesca porta alla cattura di uno squalo tigre, che però non è il responsabile degli attacchi. Infatti è troppo piccolo, come denota il biologo marino Scott Hooper. Per risolvere la situazione una volta per tutte, Brody, Hooper e Quint si imbarcano a bordo dell'Orca, la nave di Quint, per braccare e uccidere il grande squalo bianco. Durante la battuta di pesca, Quint rivela un interessante dettaglio sul suo passato, citando un evento realmente accaduto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nello scenario del Pacifico, la nave della Marina Americana, USS Indianapolis, venne affondata dai giapponesi. Diversi marinai si gettarono in mare, in attesa dei soccorsi, ma aggiungere per primi furono gli squali, che cominciarono ad attaccare gli uomini. Nel film Quint è uno dei superstiti delle Indianapolis, e questa esperienza lo ha segnato a tal punto da farlo diventare un cacciatore di squali professionista. Nonostante le indubbie capacità di Quint e le competenze di Hooper, avere la meglio sullo squalo si rivela un'impresa ardua. L'esemplare in questione è molto forte e scaltro, tanto da neutralizzare varie strategie di pesca. Lo squalo riesce addirittura ad affondare la nave Orca, divorando anche Quint. Nello scontro finale Brody riesce a sparare a una bongola, che lo squalo aveva inghiottito tra le sue fauci. L'esplosione che ne consegue uccide il grande predatore. Amity Island può tornare alla sua pacifica esistenza. Il grande protagonista del film è ovviamente lo squalo, il cui comportamento non è però esattamente realistico. Gli squali bianchi sono sì grandi predatori, che possono raggiungere anche i 4 metri di lunghezza. Tuttavia non sono delle macchine assassine che attaccano senza sosta. Per esempio la scena dell'attacco al bambino con il gonfiabile è piuttosto sbagliata, in quanto uno squalo bianco non attaccherebbe mai in acque così basse. È chiaro che lo squalo di lo squalo incarna diverse caratteristiche del classico mostro. È pericoloso, sembra impossibile da battere, è scaltro, insomma il pacchetto completo. Purtroppo lo squalo crea un certo allarmismo nel pubblico americano, e non solo, che cominciò a temere gli squali e la loro pericolosità. È vero che ogni anno si verificano attacchi da parte degli squali agli esseri umani. Tuttavia si tratta di episodi rari e dovuti spesso a un errore di identificazione da parte dello squalo, che scambia una persona per una preda abituale. Un pericolo. In realtà siamo noi il pericolo per gli squali, a causa della pesca intensiva e dell'alterazione del loro habitat naturale. Per girare le scene del film vennero creati ben tre squali meccanici, uno adibito alle scene in mare. Tra l'altro, questo colosso meccanico ebbe vari problemi, dovuti all'azione corrosiva dell'acqua salata. Oggi, a 50 anni circa dall'uscita del film, si nota un sacco che si tratta di un grosso pupazzone, ma all'epoca si trattava di tecnologia all'avanguardia, che impressionò molto il pubblico. In generale le scene d'attacco furono realizzate in maniera efficace, grazie a un ottimo effetto suspense impreziosito dall'iconica colonna sonora composta da John Williams. Non tutti sanno che Lo Squalo, inteso come film, è ispirato all'omonimo romanzo di Peter Benchley, pubblicato nel 1974. Film e romanzo presentano alcune differenze, anche se globalmente la trama è uguale. Ad esempio, nel romanzo, il biologo Hooper e la moglie di Brody hanno una sorta di flirt amoroso. Inoltre lo stesso Hooper muore nello scontro finale con Lo Squalo, lasciando quindi solo Brody come unico superstite. Nell'ideare il suo romanzo, Benchley si ispirò ad alcuni fatti realmente accaduti, ossia gli attacchi di squali avvenuti nel 1916 lungo la costa del New Jersey. Nel luglio del 1916 si verificarono diversi attacchi da parte di squali, che costarono la vita a quattro persone. Ancora oggi i biologi marini e gli ettiologi dibattono sulla specie di squalo che causò questi attacchi. Uno dei principali sospettati è proprio il grande squalo bianco, anche se alcune ricerche condotte dal National Geographic nel 2002 hanno smentito questa ipotesi. Forse i responsabili furono alcuni esemplari di squalo toro, o chissà quale altra specie. Probabilmente non sapremo mai la verità in merito per mancanza di prove. Una cosa è però certa, in quell'estate di più di un secolo fa ci fu una vera e propria ondata di panico che venne alimentata anche dalla stampa locale. Avvistamenti di grandi squali vennero segnalati di continuo e ciò fece crescere ancora di più la paura tra le persone. In generale era un periodo piuttosto teso per gli Stati Uniti d'America, visto che la nazione era alle prese con un'epidemia di poliomielite e con eventi di guerra che soffiavano dall'Europa, dove infuriava la Prima Guerra Mondiale. La paura degli squali non ci ha più abbandonato, anche se, grazie ad opere di sensibilizzazione, ora non vengono più visti come dei mostri crudei e feroci. Tornando al film Lo Squalo, spendiamo due parole anche sui personaggi appartenenti al genere Homo Sapiens. Il comandante Brody è il classico eroe dal cuore gentile, che deve superare le proprie paure per sconfiggere la minaccia. Hooper si attesta come il tipico saggio, colui che ha vaste e preziose conoscenze utili per avere la meglio contro il terribile nemico. Quinta è invece una figura più borderline e forse anche il personaggio migliore del film. Dietro a un aspetto e un carattere piuttosto Rudy, Quinta è comunque un uomo di valore, che ricorda un po' certi personaggi eroici della mitologia e dell'epica. La sua vita ruota attorno agli squali, in virtù del già citato incidente della USS Indianapolis. Si tratta quasi di una sorta di crociata da portare a compimento a qualunque costo. Interessante è anche la figura del sindaco di Amity, che, pur di non perdere soldi, tenta di fare finta di nulla. Questo tipo di personaggio è presente in un sacco di film a tema mostri, creature assassine e simili. Fateci caso quando guarderete un'altra pellicola di questo genere. Insomma, lo squalo è davvero una perla senza tempo, una pietra miliare del cinema appunto. Come ben sapete il film ha avuto vari sequel, non esattamente all'altezza del capostipite. Nel 1978 venne pubblicato lo squalo 2, dove il capobrodi deve vedersela con un altro esemplare di squalo bianco. Pur non essendo ai livelli del primo, la mano di Spielberg manca e si vede, lo squalo 2 è ancora un film godibile che si lascia guardare. Lo squalo 3 o 3D e lo squalo 4 La Vendetta invece vedono un netto calo della qualità sotto ogni punto di vista, tanto da essere considerati i peggiori della saga. Soprattutto il quarto è davvero brutto. Che dire ragazzi? Era da un po' di tempo che volevo pubblicare un video dedicato allo squalo. Spero che vi sia piaciuto e che abbia soddisfatto le vostre curiosità. Il film ovviamente famosissimo, però magari vi ho spiegato qualcosa che non sapevate. Per chi non avesse visto il film segnalo che attualmente è disponibile su Netflix, quindi mollate tutto e andate a vederlo, perché non rimarrete delusi. Parola di Divus. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP. Link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!